Nel pomeriggio di venerdì si è consumata purtroppo una nuova tragedia della strada a Fosso Ghiaie sulla Adriatica dove si sono scontrati frontalmente una Peugeot Bipper e un camion. L'incidente è avvenuto intorno alle 15 e un quarto nel tratto di strada privo di sparti traffico centrale fra la rotatoria di Mirabilandia e il ponte sul fiume Montone. A perdere la vita è stato un uomo di 71 anni. Inutile l'intervento del personale del 118 arrivato con ambulanza e del risoccorso. La dinamica esatta dell'incidente non è ancora stata chiarita. La Peugeot aveva appena percorso la rotatoria e si stava dirigendo verso Cervia quando improvvisamente ha invaso la corsia opposta e si è scontrata col camion che stava procedendo in direzione di Ravenna. Non si conoscono al momento le cause che hanno portato l'auto a superare la linea continua che divide i due sensi di marcia. Il camionista, illeso dopo l'urto, ha tentato di evitare la vettura spostandosi il più velocemente possibile verso il margine destro della carreggiata ma non è riuscito ad evitare l'impatto. Sarà compito della Polizia Stradale di Ravenna ricostruire quanto avvenuto. Per consentire le operazioni delle forze dell'ordine, il tratto di strada interessato dall'incidente è stato chiuso alla circolazione dai mezzi della Polizia Locale di Ravenna. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l'aria. Sul posto ha anche il soccorso stradale per rimuovere i veicoli incidentati. Per il recupero del camion è stato necessario intervenire con un autogru.